Erka me Oh ragazzi, non so voi però Io se tolgo il visore notturno Tipo... Oh porco diesel Veramente Qualcosa si vede? Qualcosina Sei spawnato? Si, spawnato davanti al Pullman Ah, non spawni nei messi Oh, c'è qualcuno qua di fianco Oh cazzo Mamma mia, mi hai fatto cos'era addosso Perché è bello che io Non stavo guardando qua, ero su internet Mica appena sono tornato Ho visto una persona lì Ma poi non sa che la siamo Ci sei? Ci sono Eh no, aspetta Non ci sono sopra No, aspetta, aspetta Eiezione Che cazzo è? Non lo fare Non lo fare Neschi di farti male Seriamente male Ah ma c'è un bug qua Qua Su... Sul camion c'è un bug Praticamente Se quando te lo accendi Può capitarti che ti vada O a sinistra a destra Ti gira lui da solo Oh Sandro, vedi curata Sta tipo 360 Ciao Sandro Da posto Non è che si riesce a vedere perfettamente dietro Ma che cosa devi fare? Ah, devi decidere la mucca, mamma mia No, volevo vedere che cos'era Perché l'avevo visto muoversi in lontananza Non l'avevo visto, mi menti, mi inventi Ma che coordinate siete? No, 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 no Ti spara le gomme Ma muoviti Ma muoviti Eh, sto arrivando Ok Ci sono Ah, c'è uno zombie Posso investire lo zombie? Sì, schizza in avanti Veramente? Non so se l'hai mai provato Vediamo Vole in avanti Vole in avanti Con le macchine vole in avanti Ho fatto con un gruppo di ragazze Adesso scolate tutto il pullback È vero, è schizzato Ho visto un frame Ah, io prima ero passato da qua Ma gli zombie possono danneggiare il pullback? Sì Sì Se gli zombie ti colpiscono adesso Non girare troppo perché è un po' troppo verticale questa strada In ogni caso non posso danneggiarlo E non ci possono danneggiarlo mai Quindi c'è l'insame che sarà armato In me sono un po' sicurissimo Oh, aspetta, mi sono bloccato Mi sono bloccato arma Ah Gli sei passato dentro a quello là Vabbè, mi metti in strada un attimo Eh, mi ha buttato fuori No Non ho capito cosa è successo Ma guarda che tu sei ancora dentro Sono ancora nel senso Beh, Gli si sta perdendo Ah, lo sta perdendo la condensione Eh, ha crashato arma Ma quel simbolino sopra l'acqua cos'è? Sopra la sede E la temperatura che però per ora è disattiva Non fa niente Eh, c'è un piccolo problema Ha crashato tutto il computer Sì Poi c'è dentro l'altro couch Eh, non funziona Ci ho provato tre volte Oh, banana Mi sa che ti tocca aspettare Aspetta che vado un attimo in bagno Sì, infatti 52 ore lì da solo È freddo Minchia ragazzi Alle 3 siamo ancora qua Speriamo di no, regà Datemi le vostre coordinate Oh, Sandro domani mattina giochi? Eh, io domani non ci sono Mi vedo con degli amici Tutto il giorno? Sì, da mattina, pomeriggio o tardo No, quindi la sera giochiamo tipo adesso? Ssss Più prima Più prima Nostre coordinate è 133 025 Quasi 026 Quindi 033 No, 133 025 Ignorante 133 Le tue? 133 e 125 No, 130 te 025 Ragazzi Io mi faccio tanto i biscotti Tanto Cioè siete ancora a osso, ah? Sì 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 Te dove ti... Ti... dove... Dove tu stare Brutto Negro Di Kevin Ah A... A Gvozno Eh, quale zona? A Gvozno, proprio Eh, sì Quale zona? Nord Sud Est Ovest Della città Vabbè, semmai vado all'incrocio quello che sta a est di Gvozno Che buoni ragazzi gli abbracci di Molino Bianchi Oh, ehm... Tu, ehm... Tu, ehm... Tu quando è che te ne vai Sandro? Quando te ne vai te... Mi raccomando, fottiamocene di quello che dice gli altri, tanto... Cazzo gliene frega lei, posto lei posto tutti, porco dio Che... Che... Non c'è male il bambino Che... 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 Chi... Che... Che... Sandro, dove sei andato? Sceso E dove sei ora? Davanti al pullman Ma non ne vieni? Oh ragazzi, comunque vedetevi d'occhio perché vi ricordo che ci sono altri tre player Ci sono due zombie che camminano uno dentro l'altro Ma che cacchie E mi stanno guardando Ale, ti sei spostato da dove hai perso la connessione? Più avanti sulla strada Un millimetro, un altro po' In ogni caso quando respawni, respawni davanti al pullman A meno che lui non parta a 50 all'ora Allora non ti succede niente A me sei sposto Guarda che puttana No Non sono blu Si è sentito una voce a mia sorella e sta urlando Perché se tinte i capelli Ma c'è una sorella? No È la sorella di Sandro Scusa, con che cazzo stai parlando ora? Io non sto parlando Dì che hai detto Io mi so che sei andato con la sorella, che tipo dicevi Che cazzo gliene frega lei Tanto a posto, lei ha posto tutti No, era con mia madre Che è morta una mia parente giù a Modena E mi fa Eh, venerdì dobbiamo andare giù a Modena Io al funerale Mi faccio al funerale e non ci vengo Eh, cosa faccio? Vado giù e torno da sola Sai che sono impedita con i navigatori Non ci riesco a farlo E io Eh, allora andiamo Vediamo un caffè e torniamo Eh no Andiamo, andiamo al funerale e torniamo No, io al funerale non ci vengo Eh, allora stai a casa con la nonna Bellissimo Cazzo, non c'è connessione internet Non c'è il 3G Devo stare a casa una con 97 anni Che l'ultima volta che mi ha visto Mi fa Oh ma che bel fiolino Ma come sei cresciuto Oh come fai a scuola Gio, giuro Se ci stavo altro 10 minuti dentro lì Le mettevo una granata in bocca Va a finire che vada al funerale Mi porto dietro la PSP E gioco in chiesa Me ne sbatto il cazzo Dai, perché? È giusto andare al funerale Ci sono già andato abbastanza Fidati Comunque per accelerare Decelerare il tasto E E il tasto Q Mentre si tiene premuto il tasto W Dovrebbe essere Quindi non shift Sia shift Sia shift Poi shift quindi Nei con le impostazioni di Bossa Però si usa più benzino Ora ragazzi Ora non ci dobbiamo preoccupare Siamo solo noi track Se ne sono già andati A me da 8 persone Wow Eh vabbè però in realtà no Dai ti muovi Eh sto gioinando Stai calmo Che sennò io ti sparo con l'M416 Dentro E ti investo Anzi torno là Prendo l'M16 con lanciapatate Te la lancio dentro a Lanciapatate Ti lancio un puffo fumogeno dentro al cazzo di Un po' scorreggione che fa fumo È vero Le granate fumogene potrebbero essere dei puffi che scorreggiano Allora Banana ma sei sempre scollegato Ma che cazzo fai Segui Youborn a manetta eh Tu cernaro se sei qua Eh non grido Non grido Sì sicuramente Sì sto cazzo Fede dove leggevi le indicazioni? Aspetta un attimo Mi fa morire Fede Ehi la luna Ehi la parola chiudi la porta Sì c'è un zombie appena fuori da noi No Sono un po' di zombie Sandro e Fede Io avrei paura a stare di dove sei te ora Io sto dentro Sono davanti a te Infatti Allora ragazzi Come per vedere dietro per la retromarcia? Eh Alt Per girare la testa No Non sa niente Come se stessi camminando Quindi lo devi tenere premuto Oh ragazzi ma c'è una storia C'è una storia su dei Zed Cioè nel senso come è stato creato Cioè Che storia ha dietro? Perché sono tutti zombie? Cioè perché sono tutti zombie? Semplicemente un'infezione Vai più avanti nella strada No no Non indietro È peggio indietro Ma Fede risponde C'è un'ora e si è fatto un peto No Dietro non sei andato Accelera ora Quando stanno davanti Bravo No oh oh Sto entrando Che accelera ora Appena indietro Fermo Non ti muovere Appena sei passato Corri subito Corri subito dentro Corri subito dentro Eh setup complete Place wait Eh coprilo L'hai preso L'hai preso di lui Sì Mi chiamano ma lei che era forte la revolver L'hai preso Che amore Poi ed è il vecchio Aspiorato Aspioratore Dai sali sopra Sali sopra 4 volte C'uolta Vai 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 Parti Parti Ok Quando torno alla base lì Prendo la 1911 Mia adorata E mando a quel paese questo revolver Che non shotta più Ma stai facendo drifting Io vedo le gomme che c'è nella destra e l'autobus che va diritto Drifting con un autobus Interessante Ehi ma l'hostess? Che hostess? L'hostess che è in forma sulle uscite Aspetta eh Plum plum Comunicazione interna? Benvenuti su questo pullman E... Vi godrete sicuramente il viaggio Comfort E tutto quello che desiderate Per maggiore informazione chiedete al vostro hostess personale Di portarvi da bere, da mangiare o di farvi un massaggio Vi ringraziamo e vi lasciamo nelle nostre mani dell'hostess Salve io sono Federico Sono qui su questo pullman per guidarvi in questo tour di Cernarus Innanzitutto vi elenco le norme di sicurezza Allora, i vostri fucili sono sulle vostre spalle Gli zombie sono all'esterno Gli zombie vanno uccisi I compagni no, grazie gentilmente Avete tre possibilità Quattro possibilità scusatemi Qui di uscita Avete la porta davanti destra La porta centrale E la porta posteriore destra La quarta possibilità È provare il nuovo tasto da me scoperto Eiezione Ma l'impatto col tettuccio dell'autobus E di conseguenza lo sfracellamento del cranio E del riempimento dello sangue su tutto l'autobus Non è assicurato Quindi la vostra vita non è assicurata Se qualora Ale non si muove Uno sniper ci cecchina tutti Sparando da davanti E facendo un quadruplo headshot Alla Call of Duty Si ferma, si avvicina all'autobus E fa boom headshot, bitch E la vostra vita non è assicurata Noi perderemmo tutti E ce l'avremmo tutti nel di dietro Dopo questa affermazione Vi lascio a questo splendido panorama del cazzo Senza vedere una sega Quindi alla destra abbiamo Un cartello Un coso grigio Che non identifico perché non ho il visore notturno Poi c'è un dossino Come non hai il visore notturno Non ho il visore notturno Il nostro pilota non si distrae che prende i cartelli Continua a guidare Supermercato dovevo prendere una cosa Fermi devo scendere a pisciare Dov'è il supermercato davanti? Torna indietro Dietro, 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 dietro Alla vostra destra potete notare casa mia